Martedì 11 febbraio, giornata mondiale del malato e martedì 12 maggio, festa di San Leopoldo. Sarà celebrato dalla diocesi di Padova San Leopoldo Mandic per ricordare il riconoscimento avvenuto in questi giorni. La congregazione vaticana per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha ufficialmente riconosciuto San Leopoldo Mandic come patrono dei malati d'Italia colpiti da tumore. Nel 2016 il vescovo aveva avviato l'iter in seguito alla richiesta dei frati Capuccini e di un gruppo di medici padovani. La petizione lanciata per sostenere questo riconoscimento ha raccolto quasi 70.000 firme in poco più di tre anni. San Leopoldo morì per un tumore all'esofago ed era già invocato per la guarigione da molti fedeli. I devoti a San Leopoldo potranno utilizzare anche un piccolo puscolo con tre preghiere, del malato, dei familiari e per gli operatori sanitari, formulate per questa occasione.